era l'ingegnere, e il Gaiarco, e il Bognoranduccio, e se sentiamo là, che? Che fa il video? Che ripiava ora? Facete il video, zitto, se no si sente la tua voce là qui. Ai Dio! Le piacce, non ci vediamo, no? 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 La mia Dio è la mia Dio la mia Dio è la mia Dio.